Buongiorno e ben ritrovati sul canale YouTube di Eviso, quest'oggi un bellissimo argomento di cui parliamo insieme a due ospiti. Abbiamo qui con noi Cristian Ranallo dell'Associazione Great Innova. Buongiorno Cristian. Buongiorno a tutti. E poi con noi c'è Davide De Bernardi, specialista della formazione di Eviso. Ciao Davide. Buongiorno. Ciao Marco, buongiorno a tutti. Bene, oggi siamo qui per parlare di una bellissima iniziativa che rientra nelle tante iniziative e che Eviso sta facendo per i suoi dieci anni di vita, di attività che sono tuttora in corso. Stiamo parlando di un bando lanciato proprio dall'Associazione Great Innova in collaborazione con Eviso per sostenere la formazione dei giovani studenti neodiplomati del Piemonte. Allora io andrei subito da Cristian perché Great Innova si sta occupando di questo bando, ha lanciato questo bando e ti chiederei Cristian come è nata questa iniziativa insieme a Eviso, un'iniziativa dedicata proprio ai giovani studenti. Sì Marco, direi che questa iniziativa nasce sulla scia di un precedente progetto, un progetto di altrettante borse di studio che con gli amici di Eviso e con Gianfranco circa due anni fa abbiamo deciso di lanciare dedicandole a sette ospiti illustri della scienza. Quest'anno abbiamo voluto ricalcare quel bellissimo progetto che ha avuto un ottimo riscontro del territorio, focalizzandoci su cinque borse di studio da poter erogare sul territorio piemontese per eccellenti studentesse e studenti che stanno intraprendendo la loro carriera universitaria. Vogliamo accompagnarli in un viaggio, non solo di studio, che per noi rappresenta un momento di forte crescita legata alla formazione, perché riteniamo che la formazione sia un elemento chiave per lo sviluppo di una società ancora più sostenibile e intelligenza collettiva per la gestione della complessità e il titolo di questo nuovo progetto di borse di studio. Bene, molto interessante, quindi dedicato ai giovani talenti di tutto il Piemonte che si sono diplomati proprio nello scorso giugno, nello scorso luglio, nello scorso anno scolastico che adesso iniziano probabilmente proprio in questi giorni la loro nuova avventura universitaria. Poi daremo anche qualche informazione, perché c'è tempo fino al 20 ottobre per partecipare al bando, per iscriversi. Hai parlato di formazione, hai parlato di intelligenza collettiva e quindi coinvolgo Davide, perché Davide all'interno di Eviso si occupa di formazione. Davide, possiamo confermare che questo amore per la formazione è anche interno ad Eviso, quindi sia l'intelligenza collettiva che la formazione sono due ambiti davvero importanti che si stanno trattando all'interno dell'azienda. Assolutamente sì Marco, sono molto contento di questo bando perché mette in luce ecco quello che è la nostra idea di formazione, l'idea di far fiorire i talenti. Una formazione a 360 gradi, sia tecnica sia legata a quelle che sono le soft skills, anche la parte umana. Mi piace collegarmi a quello che diceva Cristian prima, troppo spesso vediamo la formazione come un'attività per colmare dei gap, come se fosse un mattoncino da andare a mettere perché ci manca qualcosa. Ecco, io penso che questo bando e la nostra esperienza in Eviso invece ci faccia vedere il bello della formazione, questa energia positiva, no? andare a fiorire i talenti e quindi dare la possibilità anche a chi ha già un talento di ampliarlo ancora di più. Questo penso sia la parte bella della formazione che tutti i giorni proviamo a mettere in pratica in Eviso. E poi i talenti che si trovano insieme riescono a far fiorire anche l'intelligenza collettiva che ne beneficia ovviamente e diventa ancora più forte e importante. Torno da Cristian per dare anche qualche informazione più pratica per tutti quelli che volessero partecipare al bando. Come ho detto, il 20 ottobre è la data ultima per la partecipazione. In bando è già pubblicato sul sito di Associazione Great Innova, vero? Sì, assolutamente. Su associazionegretinova.it abbiamo dedicato una pagina che racconta come si svolge questo progetto e è possibile scaricare il bando in cui sono contenute tutte le informazioni per aderire e inviare la propria adesione e la propria proposta alla ricerca di una delle borse di studio in palio. Voglio aggiungere un elemento che secondo noi, da parte della nostra associazione, è davvero la chiave ulteriormente di questo progetto e la collaborazione, perché ancora una volta riusciamo insieme ad una delle aziende più promettenti del nostro territorio a portare quella che è la collaborazione trasversale tra enti del terzo settore, aziende, accademia e scuole. Per noi è uno dei più grandi successi che possiamo mettere a disposizione del territorio. Grazie Cristian e ti confermo che è così, in Eviso troverete sempre la collaborazione, tanto che Eviso ha inserito la voce che promuove e contribuisce la formazione proprio nello statuto societario. Quindi questa è una volontà forte dell'azienda e grazie anche a Associazione Great Innova per essere partner di questa iniziativa. Bene, quindi rimandiamo ad associazionegreatinnova.it oppure a Eviso.ai nella sezione news per trovare poi il collegamento al bando. Avverrà poi una selezione ovviamente per scegliere i cinque che rispondono meglio alle caratteristiche richieste. Per il momento io direi che è tutto e quindi ringrazio Cristian Ranallo dell'Associazione Great Innova. Grazie mille Cristian, a te e ovviamente ai tuoi compagni sodali nell'associazione. Grazie mille Marco, grazie mille Davide e a tutti voi per questa bella opportunità. Bene, e poi saluto anche il collega Davide che si occupa della formazione e ovviamente sarà sicuramente interessato anche a questo tipo di iniziative in futuro. Grazie Davide. Grazie, grazie a tutti voi. A presto.